Al grido di la salute prima di tutto una sessantina di esercenti di Fano con la licenza di cibo e bevante hanno deciso di sospendere la loro attività fino al 3 aprile giorno in cui terminerà forse questo momento di lacrime sangue. Con gli incassi crollati in media dell'80% il settore della ristorazione è quello che sta pagando un prezzo salatissimo. Le ricadute anche dal punto di vista occupazionale sarebbero pesantissime se le aziende salterebbero. Ogni esercizio vanta una media tra sala e cucina di almeno una decina di maestranze e quindi i conti sono facili da fare. Questa mattina i ristoratori aderenti a questa iniziativa si sono dati appuntamento nella residenza municipale per far sentire la loro voce all'amministrazione comunale che li ha ricevuti nella sala della concordia per ascoltare le loro istanze. La preoccupazione maggiore per loro è che in vista del documento di programmazione economica che dovrà essere emanato già nella giornata di domani che contempla gli aiuti del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus venga inserita la voce ristorazione tra le categorie beneficiari e dato che nella bozza in circolazione si legge solo un generico comparto del turismo che non contempla però appunto la ristorazione. La prima richiesta riguarda l'amministrazione comunale in cui chiediamo la sospensione fino alla dichiarazione di chiusura del famoso coronavirus o 120 giorni dopo la deroga di tutti i pagamenti dell'acqua, gas, tasse comunali e quant'altro. Questa è la prima cosa. Abbiamo chiesto al sindaco poi anche di aiutarci insieme con le banche ad avere qualche soldo da poter in qualche maniera far fronte a questa situazione d'emergenza. Chiaramente non avendo più una rettività abbiamo chiaramente dei problemi che anche con i nostri dipendenti dobbiamo in qualche modo dover supplire. Non è che possiamo non dare lo stipendio ai nostri dipendenti. Noi abbiamo tanta gente in carico facendo un calcolo con 80 diciamo ristoranti con una media almeno di 10 presenze al ristorante incominciamo a essere insomma e poi le loro famiglie cominciamo a essere tanti. Il primo incontro con un tavolo economico che ha visto la presenza di tutte le associazioni si è tenuto giovedì 5 marzo dove sono stati raccolti dei documenti presentati dalle varie associazioni con richieste di aiuti per i vari settori. Nel contempo venerdì 6 il presidente della provincia Paolini ha convocato un incontro provinciale con tutti i sindaci dove si è costituito un tavolo di lavoro per la redazione di un documento unanime da portare poi al governo. Ci eravamo già mossi abbiamo già istituito un tavolo economico che elaborerà insieme anche con altri colleghi con tutto il territorio provinciale delle proposte da sottopore al governo che rientrino nel decreto economico ma da subito ci siamo mossi io stesso mi sono messo al telefono con i nostri rappresentanti al governo e mi hanno garantito che anche la ristorazione sarà inclusa nel pacchetto economico. Siamo in work in progress le cose le seguiamo giorno dopo giorno in costante questo rapporto e abbiamo costituito anche una task force dove c'è la rappresentanza istituzionale ma anche la rappresentanza delle varie categorie perché o si lavora insieme all'unisono o altrimenti ci facciamo solo del male e aggraviamo soltanto la situazione.